Eccoci qua, allora il cane mi dà una raspata sul tartufo bianco e si blocca E' successo che gli abbiamo creato un condizionamento operante in negativo Spiego, cerco di spiegarmi almeno O sia a destra o sia a tartufi Quando si lavora con un cucciolo è fondamentale avere consapevolezza di questa cosa Che cosa significa? Che un cucciolo gli dobbiamo permettere di andare sul tartufo Non lo dobbiamo spaventare, quindi non dobbiamo essere ruenti Guarda proprio oggi ho rovinato un bellissimo tartufo Perché stavo con la mia cucciola E purtroppo non può inibirla ferma, 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 la blocchi e quant'altro E quindi quando si sta addestrando dobbiamo mettere in preventivo il fatto che un bel tartufo si possa rovinare C'è una piccola premessa, ho cambiato l'orario della diretta Perché siamo in piena stagione e io come bimbi tra un pochettino mi metto a letto Quindi per questo periodo faremo degli orari un pochettino diversi Quindi quando si va nel bosco e quando si va a quella specie di tartufo Questa inibizione va evitata a tutti i costi Soprattutto con alcune razze che hanno una grossa intelligenza dell'obbedienza Che entrano più nell'ottica del condizionamento operante Cioè me lo fa solo con il bianco, me lo fa solo con il nero pregiato Perché quando i cuccioli, i cani giovani che hanno fatto un'esperienza estiva Dove abbiamo fatto bambassa di fiducia, bambassa di fare quasi tutto al cane Ripartiamo dopo il riposo di settembre e magari alle prime forate Fermo, fermo, fermo cercando di salvare questo benedetto tartufo E al cane con dei tempi di applicazione medi I nostri cani, io ricordo sempre che sono cani ragionatori Purtroppo la cinofilia è diventata un settore di paroloni Lo dico con rispetto ma è la verità Però spesso queste cose non si riescono ad inquadrare Se questo condizionamento glielo creiamo nell'ambiente di quel tartufo Con quel determinato abbigliamento Lo stiamo creando un condizionamento operante Su quel tipo di tartufo in questa determinata maniera Quindi probabilmente il cucciolo che darà la spada è Bavia Perché è stato aggredito emotivamente, parlo io Non c'è bisogno della fisicità, nessuno Però di fatto è arrivato qualcosa di sbagliato Su quel tipo di tartufo Le attenzioni che diamo al valore di quel tipo di tartufo Arrivano fisicamente quando cerchiamo di schermare O per esempio io ho visto delle cose assurde Nel senso che prendo una mancina di croccantini Te le butto da una parte, ti distrago Tecnicamente un cane va apprezzato mentalmente Quindi ci si incomincia a lavorare E si manda a conclusione Come se fosse un altro tipo di tartufo meno pregiato Ripeto, rischiando che si rovini Ce ne faremo una ragione di questo In parallele all'educazione possiamo iniziare a lavorare col fermo E insegnargli il fermo a comando E' ovvio che queste cose sono possibili Se il cane è stato indotto alla ricerca attraverso il gioco Predazione Non attraverso la pulsione fame Perché la pulsione fame da tante problematiche poi in realtà sull'individuo Quindi altra specie di tartufo è un mondo diverso Dove soprattutto nelle prime occasioni, nelle prime rinvenimenti Noi siamo stati esageratamente protettivi nei confronti del tartufo E questa cosa va a bloccare il cane Se non lo andiamo a riconfermare Allora è successo questa cosa In dei tempi brevi Prima che rifletta su quello che è successo Questa cosa si va a fissare E diventa letteralmente vizio d'abitudine Quindi per il cane che si è bloccato Cioè nel senso che dà la prima raspata E scappa via dalla buca Probabilmente è successo questo E quindi come si fa a risolvere? Si deve rifare il passino indietro Io dico sempre che l'addestramento è un letto Che si prepara per andarci a riposare Anni e mesi dopo Quindi si rifà un passino indietro Si usa quella molecola olfattiva in un ambiente analogo A quello dove andremo a ricercare il tipo di tartufo E con calma ripartiamo dal rinvenimento Arrivando a conclusione Vi ringrazio tanto E vi auguro una buona serata a tutti quanti E ci vediamo alla prossima Scusate che ho cambiato l'orario Ma è necessario questo periodo Chi è appassionato di montagna E chi frequenta la montagna Mi capirà Buona serata a tutti Ciao